Il giocatore è tornato a casa, ha iniziato a 5 anni proprio qui, è Rosenthal che fa 3 a 0, di Sibiglio, specifione del nuovo stadio, guardate qui, con grande qualità, lega il controllo, il topo poi facile con il mancino, a un altesimo l'azzato ci prova, appena dentro l'area di ricordo, è solo esterno della rete, si dice 3 a 0 per la settima volta negli ultimi 9 anni, sta rispondo, si incade ai primi miliardi, è la prima volta in nostra storia, e poi giocherà, ma c'è più slicker, c'è sta grande, ovviamente in Svezia, ma che qual è quello di Erikson? Mi trovo l'altro, mi trovo l'intervento, è sicuramente il potere che fa noi, è un'altra cosa, secondo me è un'altra cosa, non è un'altra cosa.